5 Stelle, che sarà anche il capo politico, su questo qualche tensione si sta consumando, ma sono domande che giriamo subito a Danilo Toninelli, il nostro ospite circondato da tanti attivisti che gli vogliono molto bene. Toninelli, iniziamo subito dalla cosa più scabbrosa che è questo schiaffo di Roberto Fico, dissidente. Roberto Fico c'è, ci sarà o sarà espulso dal Movimento? Ma è una domanda che non esiste nel Movimento 5 Stelle dove il riferimento esclusivo è il programma. Come si può parlare di scissione o di rottura quando tutti siamo accomunati dalla volontà di rimettere in piedi un paese come quello messo in ginocchio dei vecchi politici che si chiama Italia? Quindi non riesco neanche a dare una risposta. Questa è una comunità di decine di migliaia di italiani che arriva da tutte le parti d'Italia per abbracciarsi dopo aver trascorso un anno lontani a lottare sui territori per la trasparenza, per la legalità, per l'onestà nelle istituzioni. Ma l'abbraccio di Fico manca? Io non l'ho ancora visto, appena lo vedo lo abbraccio. Ma lui è qua a farsi abbracciare da tutta questa comunità, ripeto, dove il riferimento è il programma e le idee che tra l'altro abbiamo quasi completato di votare, da votare con tutti gli iscritti queste persone, più di un milione di voti, per creare un programma di governo a cui sarà vincolato il futuro Presidente del Consiglio, i ministri che lui andrà a indicare e tutti i portavoce e la comunità. Come si può essere spaccati qua in questa comunità? Senta, Beppe Grillo fa il passo di lato, non sarà più il capo politico. Qui ridono tutti, però è così nella realtà. Ridiamo, io rispetto anche la domanda perché è un refrain di qualche anno fa. Beppe ha dato concretezza ad un sogno, e questo sogno è oggi sulle spalle, nei cuori e nelle menti di milioni di italiani. A me il Movimento 5 Stelle ha dato speranza, ha dato speranza a milioni e milioni di italiani. Beppe e già Roberto Casaleggio l'hanno concretizzato, dando in mano ai giovani e a tutti quelli che avevano la volontà e l'onestà di farlo, di portare avanti questo progetto. Ma non dite passo di lato, Beppe è e rimarrà sempre il garante del Movimento 5 Stelle. Senta, la polemica questa mattina ha fatto di nuovo capolino l'hacker che aveva violato Rousseau lo scorso agosto, ha detto di aver votato 10 volte per Luigi Di Maio. È un problema, Rousseau è violabile. Allora, innanzitutto non chiamiamolo hacker che sembra un esperto informatico, ma chiamiamolo criminale. Lui ha commesso un atto criminale nel mese di luglio, di giugno, non ricordo adesso violando il nostro sistema, che è il luogo con cui noi permettiamo a tutti di votare. Quello che lui ha detto oggi, secondo me, è una stupidaggine, perché con i nuovi sistemi abbiamo alzato l'asticella enormemente della protezione del sistema. Come avete visto tutti voi, tutti noi, per votare arrivava un sms. Come fa ad avere 10 identità differenti questo soggetto? Potrebbe chiederglielo però. Dovrebbe andare in galera se dovesse avere 10 identità. Bene, da Rimini vi restituiamo la linea per il momento, nei prossimi collegamenti tutti gli aggiornamenti. Grazie.